C'è ancora parecchio da fare ma ci siamo, siamo pronti e il 16 partiremo con i 12 giorni quest'anno della festa di saggio. E lunedì prossima settimana inizierete già operativamente? Assolutamente, lunedì portiamo i 12 container contenenti le nostre attrezzature e inizieremo i montaggi sul piazzale che occuperemo gradualmente. C'è sempre per togliere il parcheggio questo polmone fondamentale per la città un po' alla volta, ecco questo. La formula ripercorre quella classica con la parte gastronomica e gli eventi? Assolutamente sì, la parte gastronomica che ricalca un pochettino con lo menu, quello degli altri anni, pensiamo di introdurre qualche sorpresa, quindi qualcosa di diverso. E qui i cuochi magari mi stanno già maledicendo, mi dicono cosa sto a pensare ma abbiamo già visto cosa fare. E poi sì, gli spettacoli, gli eventi, abbiamo circa 120, oltre 120 durante questi 12 giorni e quindi ospitiamo come sempre le associazioni. Abbiamo comunque il nostro mercantineia, quindi la parte commerciale, l'expo auto, i giochi dei bimbi, come sempre, quindi cerchiamo di dare un prodotto per tutta la famiglia e per tutte le età. La parte della musica su tarda serata per i giovani, il liscio, le palestre che ci vengono a trovare, vengono a esibirsi e a promuovere le loro attività, quindi tante cose. Importantissimo l'apporto dei soci e dei tanti volontari che lavoreranno. Assolutamente sì, siamo oltre 110 sul piazzale, sulla festa, 80 sono nelle cucine quindi a lavorare e all'interno a preparare i piatti da mangiare. È importantissimo, ce n'è un gruppo che lavora tutto l'anno per la preparazione, quindi che è la parte gestionale e sicuramente tanta gente che è finito l'orario di lavoro, quindi viene su un impegno anche fisicamente abbastanza pesante, ma lo spirito di familiare, il piacere, eccetera, fa superare questa fatica. Grazie a tutti.